Seconda corsa, premio in posimato, miglio per anziani di categoria G affidati ai gentlemen, Ancol Madiba, J.Berox, Anadette, tornato per Ignom, Pietro Il Grande, Shelford Run e Tiller US in prima fila. Da solo in seconda fila, c'è Temibile, ok. Rinuncia al lancio, Tiller US all'esterno della prima fila, parte piano in seconda fila, Temibile, ok. Emergono Pietro Il Grande e Shelford Run, con il primo che si oppone all'avversario, Shelford Run che avrebbe spazio per accodarsi davanti anche al Madiba J.Bey che a sua volta replica a Tornato. 200 metri con Pietro Il Grande, leader su Shelford Run che si è accodato davanti anche al Madiba J.Bey. Al Tornato fa altrettanto nei confronti di Roxana Dete e si sistema in quarta posizione. All'esterno rimane così Tiller US seguito da Temibile, ok. In coda invece c'è Perignon. Cerca subito di rallentare il ritmo Pietro Il Grande, ma comunque il mezzo giro iniziale è nell'ordine dell'1.15, scarso. Sposta dalla quarta posizione Tornato e cerca di avvicinare il leader. Nella cui scia c'è sempre Shelford Run. Poi anche il Madiba J.Bey accenna a spostare anche Roxana Dete. Nel frattempo Pietro Il Grande giunge al paletto di metà gara in 1.1 appena abbondante. Si viaggia sul piede dell'1.16.3. Con Pietro Il Grande, leader su Shelford Run, è tornato all'esterno anche al Madiba J.Bey. Roxana Dete all'esterno, temibile, ok. E a chiudere ci sono Perignone e Tiller OS. Pietro Il Grande che allunga, prende vantaggio all'inizio dell'ultima curva, anche in maniera abbastanza netta. E va infatti a completare i 1.200 metri in 1.34. Acquisisce due o tre lunghezze Pietro Il Grande su Shelford Run. Tornato, temibile, ok, che ci prova in terza ruota per le vie brevi. Anche il Madiba J.Bey. Pietro Il Grande ha fatto il vuoto nei confronti di Shelford Run. A centropista sta emergendo dal gruppo temibile, ok, ma soprattutto Perignone che scatta dalla retroguardia, fortissimo, supera tutti e prova a lanciarsi all'inseguimento del leader. Ma Pietro Il Grande è ancora in larghissimo vantaggio nei confronti di Perignone. Pietro Il Grande conclude da dominatore su Perignone per lungo la corda. Trova alla fine il varco anche il Madiba J.Bey e fa su il terzo posto per un arrivo che dice 5-4-1, ufficiosamente parlando. Pietro Il Grande che è chiuso da favorito, 3-0-3 la quota. All'interpretazione è velio storti, 2-1-1 sul mio cronometro che significa media di 1-15-7 per l'allievo di Warner Martellini. Nel preferito percorso di testa stacca sull'ultima curva e poi vince ancora con largo margine Perignone, impiegato all'estrema attesa da Fabrizio Martinelli. Supera tutti gli altri concorrenti ed emerge netto secondo davanti anche al Madiba J.Bey. 5-4-1 è l'arrivo ufficioso della seconda di Capanelle. 5-4-1 è l'arrivo ufficioso della seconda di Capanelle.